nel video precedente signora la farmacia è sulla destra ora andiamo attento ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video qui Mirko oggi siamo di nuovo sul doppio mondiale secondo episodio come potete vedere dallo scorso episodio ho cambiato un po' la squadra ad esempio qui c'è e stanno adesso David Silva eh che dici che era una sega eh due centrali ora sono company Hummels poi vorrei far notare o Royce ma cosa che fai perchè io sono io posso non cercare la partita folle raga un folle 88 la partita scorsa Messi Aguero e Chiribbio ma questo che c'ha ecco Messi c'ho la maledizione di Messi Lukaku Messi speinsteiger di Maria azzale quadratica così il baumet nient'altro non lo so tutto pronto la seconda partita di Federico ha la scelta di tre punto oddio gazzò Benzema vai sfornacelo sto kebab sfornacelo no perchè ti riesce Benzema ho buttato tutto dentro yes baby secondo minuto ma ci terzo gazzò Benzema chius uomino eeeh sono le spelle qui via ciao vai ciao nooo mi tengo più ma boppeggola primo tiro l'aria aperta col primo tiro in porta anzi primo tiro poco memphis a claude pai ciao a tutto noo che bomb noo close ciao addio finalmente finally the rock miro 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 ciao addio si può abbracciare Benzema no a quinta dal novantesimo Federico è matematicamente qualificato mo' spacchietterà il suo solito pacchetto tatuetti ora passiamo la partita sul mio account ok questa è la formazione è soltanto un cambio rispetto all'ultima volta infatti c'è Diego Costa al posto di Mario Mandic ok 99 99 dai Messi, Guain, Neymar, Ames e Di Maria vabbè raga ci si trova la mission eh no Roni è là tu il putt'a dentro noier oddio noier poi Schweinsteiger che cosa e close per i Guain ho quanto corre costa Diego Costa la putt'a dentro all'esordio la putt'a dentro Diego Costa con numero 14 giro vai che sei più veloce vai Diego oh andolo ricordo si Eden Hazard su punizione la putt'a dentro dai e così 2 a 0 al diciassettesimo il captain la putt'a dentro nooo 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 poca putt'ana guarda tu l'hai incostrata oh nooo miro vai miro vai miro vai che fai oh lo sei lo sei lo sei vede vai capitano vai capitano vai capitano vai capitano vai capitano vai che c'è Ronnie vai che c'è Ronnie o Diego Costa Diego Costa la putt'a dentro 3 a 1 sotto la terra della merda Diego Costa non sbaglia comunque c'è qualcuno che ha scurriciato c'è una forza assusta nooo 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 così nooo nooo così nooo non è giusto non è giusto non puoi te col così sei proprio uno schifo c'è scusa ma sì mi rispondi un po' scusa Diego Costa ah no vaffoduro tu mi fai col così e io lo faccio così ecco tripletta per Diego Costa oh Diego oh Diego oh Diego oh Diego mi sta miro 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 guardate precisione il primo tempo 4 a 2 partita bellissima vai Ronnie vai Ronnie vai Ronnie vai Ronnie 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 Ronaldo Ronaldo Cristiano ah eh certo alpa eh eh vai Diego 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 Costa non lo posso ciò che è sempre si fai roni la punta dentro è 5 a 2 dai e così non stai a qui Mori Oddio lo sape Madre no Che profeta Che bella Il golazo di Madre Su Antonio Il pannello comincio Il pannello comincio Bro Bro Io Ma 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 Si 5 a 3 Se questo vi è piaciuto mi raccomando Un mi piace E bella ragazzi Benzio La butta dentro Diego Costa la butta dentro Va all'esordio La butta dentro Diego Costa La butta dentro La butta dentro La butta dentro